Ciao a tutti e ben ritrovati in capitolo 4 con G... che titolo di merda e stavo dicendo e benvenuti nel capitolo 4 ci eravamo fermati che il subzero ci ha preso schiaffi con i ghiaccioli e basta dobbiamo andare nel regno esterno che sarebbe tipo... vedete dagli arredamenti che siamo in Arabia Saudita. Punto. E da come ci vestono. Si ci stanno guardando tutti male a parte il tizio con le frecce che sembra un un imperiale. Che cazzo è un imperiale? Che cazzo è un imperiale non lo so nemmeno io ho cercatelo. Cercate di immaginare. Allora ho letto ho letto ho letto la parola stronzo sotto e ho già capito che hai detto qualcosa di stronzo. Si non lo sto... Si un'opinione che dovete spingere sottovoce. E' come se tu andassi a Parigi adesso e lasci. Andiamo al bar! Ti spar... ti sparano non so quante volte. Pessima idea. Non è stata una bella esperienza. No. Questo qua che cavolo di occhiaie? Ma da quant'è che non dorme da qui oh? Poi ma... scusa eh... proiettili sul cappello cowboy... Ah io ho segniritato di quanti anni? Erivo di irritato al tremo eh? Ma no. Puoi restarci anche per l'ucciderci ok. Pfff. Ma... ma... perderesti la paga. Vabbè. Posso dire... Carisma! Carisma! Ding! Carisma! Tentativo di persuasione completare. Andato a segno? Fallout! Si questo qui ha tanto carisma. Però riesco a metto pochissima agilità. Sentite? Non so cosa dire. Sto leggendo sotto. Oh! Finalmente si va sull'azione eh? Allora legge una pergamena. Sto leggendo sotto. Verrei condannato. Condannato a morte. Era ora. E lo fa me anch'io. Ho sempre fame che cavolo. Ma però non vado. Vabbè. Beh. Ricorda dove ti trovi. Che che vuol dire? Aspetta. Ma mi ricorda mi ricorda al trailer di essere si iscrive uno. Guardate bene. Tac. Vabbè. Arriva. Fa spazio dalla folla. Ammazza quello che deve esecuzionare. E dopo scappa. No. No. Non sto scappando. Ok. È un rimastere. Vabbè. Posso capire tutto. Ma non le persone con gli elmi che fanno così schifo. Il tizio che con la pistola potrebbe risolvere tutto ma non la usa perché no. Volevo fare un combattimento. Non arrivo all'attenzione. Ah. Ok. Lo fa andare via. E ora. E vabbè via qua. Quante volte potevi sparare. Non sono qui per. Non sono qui per criticare. A criticare ci penserà un misteriale che ha sempre. Che non deve far divertire la gente. No. Ah. Ah. Cosa vi ho detto? Con la pistola ma questo qua è abbastanza bravo. Bravo. Stavo lì. Stavo tirando una scudata. Se sentite un clic 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 clic. È il joystick eh. Sì sì. Gioco col joystick a Mortal Kombat. Come dovrei giocarci? Col PC? Non al PC. C'è l'uomo più schifo. Beh. Per essere un bot sei bravo. Non so come ci si. Bene la spammo. Eh. Ecco. Ma no. Sono ancora vivo. Mi ha sparato. Non so quanti colpi. Spammo le frecce. Oh. Bella. Quella è divergetta con la combo. Non è scritta nel gioco. Ma è bella lo stesso. Round 2. Bello il bastone che sputa fuoco. Davvero beee. Beh. Era bello. Com'è che. Ora so come si fa il salto in avanti. Così. Esatto. Presa. Ma com'è che. Com'è che sparavo. Com'è che sparavo il fuoco. Non mi ricordo. Ma così sparo la freccia. E basta. Fammi riflettere. Bene. Oh ma. Sempre sta presa è una roba. Ah. Mi ha buttato le punte. Ecco perché. Non te li sto dando. Ah basta. Ammettila. Ammettila. Bello anche il salto all'ingiù. All'ingiù. Non tanto all'ingiù. Oh. No. Vado. Mi ha fermato in volo. Vado. Vado con. Pfff. Ma. 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 Questa me la sono giocata. Ma. Lì. È stato divertente però. Guardate. Avete visto che. Che casino che è successo. Oh. Ora so come si fa. Non era. Non è una combo ufficiale ma. Usiamo un po' i pugni che tosano sempre. Tosano sempre il piedi. Un po' si puoi dicendo di me. no. Non va. No. No. Eh. Classica combo. Ah. No. Non era così. Va bene. Non guardo se no. Eh. Basta. Ibarando. Hai guardato. E quindi non conta la vittoria. Ci sto cazzeggiando. Voglio fargli la presa. Visto. Avrei potuto da fare in qualsiasi momento. Ma. 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 A terra. Imparo in fretta. vedo. Ma. Cosa vai contro un pugno. Guarda quei coltellini. Quei coltellini da cuc... Da. Quei proprio quelli là che non. Che non tagliano neanche il burro che... dietro ti ammazzo. No. Ma chi è che amo sulla montagna? Scusa. Cos'è quel coso dietro? Ma. Ma siamo su Titanfall. Che c'è i cosettini che... Che cosettini che guidano robot giganti. Sì. 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 E no. È la stessa cosa. Eh. Ma. Ma. Questa... Cos'è questo qui? Ah. Lago da fuori. Giusto. Che devo premere i pulsantini in modo giusto. Oddio. Se sbagli questi qui. Non so che fine fai. Check in alto. Colpo la distanza. 100 punti. più 105. Un altro. Ah. Non c'è il sistema di mira. Le sciotalo. Bravo. Vi sto premendo qua. Allora. Lui potrebbe finire... Finire da altri con un... Appunto. Potrebbe finirli con un... Neanche mi credo di un soffio. Headshot. Ora si incavola con me. Sì. 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 Volare. Uh. Utile gigante eh. Ma grino. No. Kung. Kung. Magrino. Gin. Grazie per il soprannome. Guai fanno te però è una roba insenti... Insentibile. Sarebbe inorecchiabile. Ma vabbè. Io mi metto i verbi. Bella così. Mi sembra un po' più... No. Eh. Sì. Vabbè. anch'io. Metto. Faccio un calcio. Un calcio. Un calcetto allo stinco. Mentre in volo. Cosa vuole. Cosa fa. Cosa vuol dire. Uh. Bene. Apprezzo l'impegno. Ma mi è mancato. Fortuna che mi è mancato se no. Avanti. Freccia freccia frecciata. Faccio una frecciatina. Fermo. Un'altra frecciatina. Benissimo. Questo era quasi un headshot però. Eh. Perché mentre si rialzava... L'ho colpito. Secondo round. Bello. Sparo in alto. Non ditemi che... Non ditemi che sono in memoria le mosse. Perché non ci gioco da quando non lo vedete. Quindi... Proprio... Tasti a caso. Un po' di mosse che... Sieno gli attacchi speciali sono quelli. E basta. Imparo... Imparo... Non so. Imparo così. Questa qua. Sembra... È una mossa figa. però. Però... Quadrato. 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 Non pensate che sia. Sto un po' cazzeggiando. Sto cazzeggiando un po' troppo. Quindi dovrei... Questa qui è la classica mossa che rompe tutto. E tutti. Guarda l'alfabro che non gli interessa nulla. No. Mi mandava un po' a fare in... Lì. Ecco. Non si alza perché è caduto addosso alla montagna. E voi state bene? Sì. Pfff... Seriamente? Mi state prendendo per... No. No. Avete fatto voi tipo 30... 30... 50 di questi qui? Come adesso viene fuori un insetto con le gambe? No. 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 Aiuti. Mi prego. O forse per una semplice constatazione amichevole da persona a persona di Mortal Kombat. Che finisce sempre a prendere a schiaffi l'uno con l'altro. Consulteremo l'imperatore. E... Imperatore? Che ore sono? Min? Sono le 7.50. Alla... Sistema Operativo. Beh... Sì. In eff... Sinceramente. Kung G non testa di cazzo. Sì. Lo... Dov'è? Sì. Ok. Ma non vuol dire che devi fare la Assassin's Creed. Levatevi dalle scatole. Zac. Ed shot bitch. Scappa che è rubato in modo onorevole. Però li devo mangiare tutti. Eh. Ricordate. Cinque anni... L'ho letto in ritardo. Ma ve lo dico in ritardo. Cinque anni prima. Ora vedo una galleria d'arte moderna che dipinge gente... Che dipinge... Bruce Lee. Uno col cappello tagliente. Sì. Quella gente lì. So che... Ehm... Bel lavoro di arte vero. Non so cosa rappresenti. Un leone di... O... Di... Di pietraverde. Quello... O... Siamo usciti. Però si... Il sistema... Il sistema di allarme è... Eccezionalmente affidabile. Non c'è individuato neanche una... Ma non so neanche se hanno... Il sistema di allarme qua in questi... Templi. Tempi. Templi. Sì. Templi. Eh. Bole. È... È spuntato da sotto il terreno. Tipo... Tipo fungo. Dove pensi di andare? Dopo... Quando mi batte torna sotto. Allora devo ricredermi sul sistema di allarme. Te lo fa spiegare di mano. Mi ricompare. Così. Come i funghi. Devo smettere di paragonare tutto I funghi che spuntano per terra. Ah. Si stanno parlando che... E lui è morto. E tu eri dall'altra parte della terra. Non ti sei teletrasport... Non ti sei teletrasportato da lui per salvarlo. Eh. Scusa io. E mica su Goku che posso teletrasportarmi dove voglio. Eh. Però è morto per... Perché non sei tu. Che... Che vuol dire? Allora. Quello che ho appena visto. Non l'ho mai visto. Tutti gli anni che ho morto. Non ho mai visto una mossa simile. Mi fa... Mi ha fatto una mossa. Allora. Eh. È saltato lì. È saltato. Mi ha fatto quello là che ti salta addosso. Però si è il riteletrasportato dall'altra parte e mi ha tirato un pugno. Io non sto capendo. Non è. È un trip all'inception che non si può capire. Oh. Bella mossa. L'ho imparata al momento. Frecciata. Pfff. E calcio sullo stingo. Vincente. E non si può dire nulla. Secondo round. Quindi. Belle... Belle le mani che fanno tipo un trucchetto. Oh. Guarda come posso l'elettricità da una mano all'altra. Oh. Oh. Mio Dio. Sei il mago. Sei il nuovo David Coff. Questa è stata veramente cattiva come mossa. Gli ho tirato... Gli ho tirato il monaco. Gli ho tirato il monaco. Però lui si è trasportato dall'altra parte. Quindi il monaco non so dove è andato a finire. E mi preoccupa questa cosa. No. Veramente. Lanciare i monaci è... Più di 200 monaci all'anno muoiono per questo motivo. E' fermiata di monaci. Vengono lanciati da gente che si picchia. Veramente. Ma poi come fa ad alzare un monaco e lanciarlo? Ce ce ne vuole eh. Ma tu... Ma tu era appena morto? Sei un checkpoint. Alla... Alla Undertale tipo... C'hai... C'hai i checkpoint che tu quando muoi ripresi... E torni lì. E stessa roba. Dove volevi andare? Ma tu non sei ma... Checkpoint. E io ti attacchi. Ma che da facca? Tu vuoi che ti attacchi? Perché? Expo. Fammi... Fammi... Fammi expare un po'. E stessa è una parte negativa del tuo essere. Discorso filosofico. Ma scusa. Io ti ho rubato una roba. E tu mi fai qualcosa filosofico? Addirittura. Perché faccio tutto con due F? Mi piace. E credo che gli stai dicendo... Non voglio fare l'università Kev. No. Accademia Bush. Bushi. Sì. Stessa identica cosa. Solo che lì pesti gente al posto di... Pestare i libri. Sì. Va bene. Troppo tardi per me. Non è mai troppo tardi per andare all'università. Sì. E che... La statua? Ma la statua la voleva perché? Non ho capito perché ancora. Boh. Perché tipo mi piace quindi la rubo da sotto. Ah. Siamo tornati ai tempi nostri però. Che bel trip temporale. Le notizie sui profughini preoccupano. E... Guarda caso è verde. Ma non è... Non è una coincidenza vero? Di sicuro nessuno... Ah. Sì. Quello là che gli hanno detto. Ma scusa ma... Sta usando... Lanciafia... Come sta usando... Sì. Quello da tipo... Sta usando l'amuleto contro... Come sta usando l'amuleto? E non me l'avete detto? Ma io ora scappo. Almeno esiste un terreno. I... Le stesse identica... Le stesse identica roba. Ora abbiamo usato di nuovo il garisma per... Per... Convincere... Tocca al can. Ho sbagliato il nome lo so. Come si chiama? È Lethal... Questo qui. Quello lì col casco con le piume. Bello il nome. Quello lì. Ah. Cotta il cane. Con la... Cotta il cane. Ok. Ok. L'ho imparato. E... Per farci assolvere... Ma qua... Qua si risolve tutto a pugni. Ma è un paradiso. È un paradiso questo posto. Tutto si risolve con i pugni. Siamo sicuri che non è... Questo qua è un universo parallelo fondato sui film di Bill Spencer e Terzel. Tutto si risolve con gli schiaffi. Guardate. Non dura proprio un secco... Qualche secondo un combattimento. Anzi io potei... C'è scritto 90 secondi in alto quindi... Qualche... Qualche... Poi poi non sono neanche sicuro che perdo io. Quindi... Questo ha fatto... Gli ho spostato il naso dall'altra parte della testa. E le piume sono fuso il naso ora. Fate voi. Il fabbro... Il fabbro comunque... Non gliene frega niente. Continua a lavorare come se... Quello è un mero lavoratore. C'è uno che... Se c'è un combattimento tra l'imperatore e uno che passa così a caso... Continua a forgiare. Cioè io gli darei il premio Nobel per l'impiegato? Io? E guarda... Si mette anche così. Oh mio Dio. O almeno non so se è perché c'è l'imperatore o perché... Non so. E adesso torna a forgiare. Non me ne frega nulla. Se non... Se non mi fa forgiare più in fretta io non mi interesso. Stavo provendo R1 per farlo sbattere sulla colonna. Ma niente. Una combo interessante. Oh non riesco a prenderlo. Non riesco a prenderlo. No paura. Devo andare indietro. Devo andare indietro. Esatto. Beh non me l'ha fatto per. Ne ho tirato un montante prima che riuscisse a ragionare. Ma no sta... Oddio. E però sta recuperando vita. Non va bene. Arca... E accett... No no arca... E... Frecciata giusto. Arcata. Accettata. Tutte le ho dette. Non ho indovinata solo alla fine. Dai va... Oh spaccato in faccia. Si la spaccata l'ho fatta ma... Non proprio in faccia. Sul... Sulle piume. E ora imperatore? Sei tu il nuovo imperatore? Ok. Vabbè... Ma... Non ha un senso logico però come... Io potrei aver ammazzato tutti però no aspetta. Ah come ora finisci mi devi decidermi. Non lo fare davvero o me lo chiede l'imperatore o lo eseguo. ZAC. Vabbè invece della vita richiedo i tuoi servizi. Puliscimi le scarpe. Ma sono l'imper... Veloce. Dai. Non si puliscono da sole. O necno... Non possiamo fidarci loro. Mi hai preso schiaffi. Non l'hai compreso bene. Sono in debito adesso. Mi hai preso schiaffi. Vuoi che lo faccia ancora? Fallo tu. Ah la bella... La stretta di mano segreta tra imperatore e il primo che passa con l'arco. Parlerò al generale. Ah bello. Le dirò del nostro generale Blade che è la madre di tutti. No solo di Cassie Case. Sì. Nope. Vi ho spoilerato il nuovo capitolo. Ma peccato. Un vero peccato. Comunque si è stato... Allora non so se perché sono rintronato io o perché sono diventati già più forti al quarto capitolo. Quindi prevedo i prossimi capitoli saranno un po' più difficili. O magari è solamente una cazzolita così. Anche perché tipo spara le freccine alto quando dovrebbe sparare dritte. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire tutto il resto della serie e le altre che ci saranno. E ciao a tutti.